TENETEVI! Assaltatori sopra di noi! Oh, attenzione! Un'uscita non proprio furtiva, ragazzi! Muoviamoci! Sai, credevo che la fine della guerra significasse non perdere più altri fratelli. Mi sbagliavo. Non posso lasciar perdere, non con l'impero che dà la caccia alla piccola. Chiudetela in cella. Omega ci sta aspettando da troppo tempo. La nostra missione non è ancora finita. Non vi è nulla di più grande importanza per garantire il futuro di questo impero. Qualunque mezzo sia necessario allo scopo, lo avrete. Stanno arrivando... Per tutti voi. E questa dovrebbe essere una sfida. a terra! Eseguire gli ordini non è il nostro forte. Non avevo intenzione di uccidervi, ma lo rendete così allettante. Rai! 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 Grazie a tutti.